Dare più luce alla zona di Rialto, questo è ciò che vuole fare l'assessore per i lavori pubblici Alessandro Maggioni, con il nuovo progetto di riqualifica per una delle aree più antiche e più visitate di Venezia. Ormai da anni le bancarelle che sfilano lungo Ruga degli Orefici e Rialto da provvisorie sono diventate negozi fissi, anzi sarebbe meglio dire ancorati, proprio così, perché le tende di queste bancarelle sono state agganciate a Palazzo Decimo Savi, rovinando così l'estetica e in parte anche l'edificio stesso. La situazione è tale da decenni al punto che queste strutture sono state riconosciute anche dal catastro austriaco come veri e propri negozi. Come spiega l'assessore Maggioni, in questo progetto di riqualifica si vuole non solo riportare la luce sotto i portici dell'antico palazzo, ma si vuole ridare alla zona il valore artistico-culturale che possiede. Un progetto condiviso con tutti gli operatori economici della zona e che richiederà l'impiego di 566.000 euro presi dalla legge speciale. Verrà rifatta la pavimentazione, l'edificio verrà liberato da queste strutture che verranno rese uniformi con uguali tendaggi, insegni e seramenti. Quest'operazione di restyling non sarà facile, ma il Comune di Venezia riuscirà anche in questa impresa, come è stato per Campo San Giacomo e Campo Bella Vienna.